Come orientarsi nel mondo degli integratori. Lo facciamo assieme al dottore Alberto Aloigi Luzzi, vicepresidente di Federpharma Arezzo e anche titolare della farmacia di Saione ad Arezzo. Il mondo degli integratori è vasto, però c'è un nesso tra alimentazione e integratori? Assolutamente sì, sono due mondi talmente vasti che probabilmente per riuscire a sviscerare tutti ci vorrebbero dieci puntate, non basterebbe. Quindi sostanzialmente che cosa oggi è cambiato? Il fatto che alimentarsi correttamente non serve solo a star meglio, a vivere meglio, ma a prevenire quelle che sono sostanzialmente le tre patologie più importanti, cioè il diabete, le patologie cardiovascolari e quelle oncologiche. E questo aspetto non è di poco conto perché in molti paesi, soprattutto non solo paesi poveri, ma anche paesi industrializzati come gli Stati Uniti, c'è un problema sanitario su quella che è la cattiva alimentazione, sul cosiddetto junk food. C'è la junk food, cioè la cattiva alimentazione è quella per difetti e per eccessi. Esatto, sì, cioè il consumo eccessivo soprattutto di quelli che sono carboidrati complessi e acidi grassi idrogenati. Cioè tutti i cibi raffinati, insomma. Sì, quei cibi che magari hanno un basso costo, quindi sono anche in qualche modo accattivanti soprattutto purtroppo per i giovani, ma poi magari quando si vanno a consumare sono dei cibi che in realtà fanno male, cioè possono portare a quella che è l'incidenza più alta di queste tre patologie. Quindi è fondamentale alimentarsi correttamente. Noi abbiamo la fortuna che viviamo ancora in una nazione dove il cibo, la qualità del cibo, la tracciatura del cibo c'è, quindi insomma bisognerebbe approfittare invece che andare indietro. La nostra dieta mediterranea, il patrimonio materiale dell'UNESCO, insomma, voglio dire, è diventata un po' ai margini. Purtroppo sì, bisognerebbe tornare in questo senso un pochino indietro. Ecco, e quindi gli integratori quando è che diventano una fake news, no? Come orientarsi? Allora, intanto va detto che internet è vero che ha aperto un mondo, perché oggi io vado a digitare l'integratore e scopro di tutto di più. Che poi l'integratore in sé per sé, cosa dovrebbe fare? Qual è la sua funzione? Allora, l'integratore dovrebbe, da un lato, diciamo, la funzione sono sostanzialmente due, da un lato dovrebbe supportare quando ci sono determinate patologie per supportare l'impiego del farmaco. E lì, allora, è un discorso che è prevalentemente collegato alla prescrizione del medico. Poi invece ci sono degli integratori che sono chiamati supplementi nutrizionali e in quel caso possono essere utili in quelli che sono i cosiddetti regimi alimentari. Cioè, oggi non si parla quasi più di dieta perché la dieta è un qualcosa che si fa. No, 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 è uno stile di vita. Esatto. Allora, in quel caso lì si apre, come dicevo, un mondo proprio enorme, dove però ci sono anche tante fake news, per così dire. Faccio un esempio concreto. Quando leggete integratore brucia grassi. Non esiste. Non esiste oggi né un integratore né tantomeno un farmaco che possa bruciare i grassi. Magari l'avessero inventato. Pensavo avrebbero fatto una scoperta meravigliosa. Certo, vabbè. Però non è così. Come anche quegli integratori che promettono la perdita di peso, un esatto numero di chili in un mese. Anche quello è una pubblicità ingannevole perché ognuno di noi ha un metabolismo e quindi è evidente che quell'integratore non può funzionare in maniera uguale per tutte le persone. Assolutamente. Anche questo è un aspetto che va evitato. Anzi, può anche far male. Può anche far male, esatto. Oppure ci sono anche integratori che comunque vengono richiamati. Cioè c'è un'autorità che controlla le pubblicità ingannevoli e molte volte accade che vengono richiamati perché quello che c'è scritto nell'integratore, quello che viene promesso, non corrisponde. E capita purtroppo frequentemente. Quindi il consiglio che io do è quello non andate ad acquistare integratori così a caso. Lei rivolgetevi al farmacista perché il farmacista... Allora, visto che quando entriamo in farmacia, è cambiato il mondo della farmacia, le competenze le hanno sempre avute, però effettivamente adesso i farmacisti, quando arriva una persona, riescono anche a consigliarlo. Quindi invece di fare il classico fai da te, perché poi, lo diremo, può essere anche lesivo, rivolgersi a queste figure perché ce ne sono tanti. Quindi come muoversi, chiedere, no? Perché cos'è importante da parte vostra consigliare quando arriva una persona? Sicuramente il primo aspetto è quello di capire se effettivamente in questo caso l'integratore, perché molte volte a noi capita che arriva la persona già con un prodotto. Avete questo prodotto, avete questo integratore. Quindi prima cercare di capire se effettivamente quell'integratore possa essere utile a quella persona e soprattutto non le faccia male. Quindi va capito le patologie che ha, i farmaci che prendi, perché poi anche questi integratori possono interagire con i farmaci, con le terapie farmacologiche. No, non va fatto perché molti di questi integratori hanno comunque delle valenze terapeutiche, quindi hanno delle indicazioni. E quindi avendo le indicazioni... Io penso al cambio di stagione, no? Una persona dice, mi sento un po' stanca, non dormo bene, quello e quell'altro, quindi voglio dire... A voglia ci sono, ora faccio l'esempio più banale, integratori che contengono l'estratto del ginseng, molte persone che soffrono di ipertensione non lo dovrebbero assumere. Capite? Per esempio, questo è un esempio molto banale, ma ci sono tantissimi... Ma non è banale, perché poi uno si sente peggio, dipende dalla cacchicardia... Esatto, ci sono degli effetti secondari che comunque sono presenti anche negli integratori. E poi l'altro aspetto è che purtroppo nel cosiddetto foglietto illustrativo dell'integratore, che poi molte volte se c'è è molto risicato, oppure addirittura le informazioni sono solo nel retro della confezione, anche lì le informazioni spesso sono limitate. Quindi bisogna domandare, perché molte volte quello che c'è scritto è solo una parte di quello che realmente poi c'è dietro. Anche perché oggi non ce lo dimentichiamo, l'industria farmaceutica e quella alimentare investono moltissimo negli integratori, quindi c'è un business molto... Basta andare a vedere quando uno va a fare la spesa, è pieno di prodotti con l'arricchimento di proteine, cioè voglio dire, c'è... Anche quelli, ecco, non ci dobbiamo dimenticare che l'assunzione di questi prodotti va fatta sempre con estrema cautela. Io consiglio sempre di non fare mai da soli, cioè rivolgetevi comunque al farmacista, nel caso chi ha delle patologie rivolgetevi ovviamente anche al medico. Quanto è importante questa interazione, non è che uno non li debba usare, però usarli con la testa, perché poi l'integratore può anche diventare farmaco. Come lei ha detto anche all'inizio, no, l'intervista, se non ho capito male. Sì, sì, esatto. Faccio l'esempio classico, c'è un integratore che viene utilizzato, che viene anche prescritto per l'ipercolesterolemia, che contiene una sostanza che viene estratta dal riso rosso, dall'orizio sensativa, che si chiama monacolina. Ebbene, questa sostanza a livello di struttura molecolare è praticamente uguale a quella di un farmaco che si chiama l'ovastatina. Quindi qualche anno fa cosa è successo? Che questi integratori contenevano 10 mg di questa monacolina, ma si trattava sostanzialmente di un farmaco. Quindi l'Agenzia Europeale del Farmaco ha dovuto richiamare tutte le aziende e oggi soltanto gli integratori con massimo 3 mg di questa monacolina possono essere commercializzati. Altrimenti diventa un farmaco. Ed essendo farmaco, capite bene, che ha comunque degli effetti collaterali. Per cui oggi, anche nell'assunzione, questo è l'esempio forse più frequente, bisogna fare molta attenzione. Perché si rischia poi di andare a prendere un prodotto e dice, ma tanto un integratore non mi fa male. Non è vero. Non è vero. Non è assolutamente vero. Ed è importante capire che prima di comprare un qualsiasi cosa, non arrivare a dire voglio questo. Guardi, mi hanno consigliato pure, però chiedere sempre a queste figure, perché sono figure di riferimento preparatissime. Allora, io ve lo ripresento, ringrazio il dottor Alberto Aloigi Luzzi, vicepresidente di Federfarma Arezzo, nonché anche titolare della farmacia di Saione ad Arezzo. Abbiamo parlato appunto di come orientarsi in questo mondo degli integratori.